Ed ora uno KINIVLAS!!! Hoetta, hoetta, hoetta. Grazie, grazie, grazie. siete cento cento un, siete di sinistra, siete sfigati. Questa piazza è la piazza dei centri sociali, è la piazza degli immigrati clandestini Dov'è Renzi da maestre che dovrebbero essere licenziate, come si dice a casa nostra. Dov'è Renzi? A noi piacciono i prodotti di casa nostra, come le mele, cazzo, pirla, palle, cazzo, noi siamo qua, cazzo, perché siamo contro, cazzo, punto, e io sono per la libertà di scelta e per la libertà di cazzo, le mani non le meni, cazzo, e se le meni finisci in galera e non esce più, cazzo, punto, cazzo, questi vogliono portare qua persone disposte a vendere il proprio corpo, cazzo, per 3 euro all'ora, e lo diceva una donna, che se fosse viva oggi probabilmente sarebbe una donna, che è Oriana Fallaci, cazzo, cazzo, che dicono che bisogna parlare di cazzo, e quindi noi non parliamo di profughi, ma parliamo di cazzo, e io sono contento di aver conosciuto prima che lasciasse questa terra un grandissimo uomo di chiesa, che era Monsignora, cazzo, vescovo di cazzo, che Dio ce lo riporti in terra perché avremmo tanto bisogno, cazzo, che diceva che un conto è la libertà di religione e altro conto è la libertà di cazzo, è un paese di merda, questo mi hanno insegnato i miei genitori, lo fai una volta, non lo fai la seconda volta, questo mi hanno insegnato i miei genitori, no, no, i matrimoni omosessuali, miei genitori, il matrimonio si fa fra l'uomo e la donna, omosessuali, e i bambini vengono adottati da una mamma e da un papà, omosessuali, miei genitori, omosessuali, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, o diciassette, omosessuali, e penso anche, penso anche, e penso, e penso, e penso, e penso, e penso, e penso gli omosessuali che sarà un democratico calcio in culo alla signora Fornero, e vabbè, e vabbè, questo, e vabbè, e vabbè, non la faccio ancora lunga perché per molti di voi il cazzo è lungo, però, scusate. Eeeh, ila, eeeh, ila, eeeh, ila, eeeh,